Tu non sai la matematica. Tu non sai niente. Allora, Pussi Luma. Allora, spiegami subito come ti sei permesso a toccare le ghin di pelle. Allora, spiegami come mai hai fatto le ghin di pelle nelle storie, Pussi. Spiegamelo, spiegamelo. Io la posso cantare e tu non la puoi cantare. Me l'hai rubata quella canzone. Me l'hai rubata e questo per quel motivo me l'hai rubata. Allora, mi ricordo, due anni fa ti abbiamo distrutto. Tu eri sparito sui social. Poi abbiamo inventato il miglior trend al mondo. Adesso non vedo niente. Cancella qualcosa. C'è qualcosa che io non riesco a leggere qua davanti a me. Cancella qualcosa che non c'è niente. Allora, Pussi Luma. Allora, non c'è nulla. Allora, io qua. Allora, aspetta. Cosa c'è qua? Non lo so. Non lo so. Cosa leggi? Pussi. C'è anche una Pussi. Io sto leggendo. Sandra ha iniziato a seguirti. Alessia ha iniziato a seguirti. Ma mi salgono dentro lo schermo della diretta e non so per quale motivo. Quindi tu hai il telefono tutto rovinato, Bellofigo. Hai il telefono tutto rovinato. Allora, Pussi Luma, non ti permettere di iniziare a dire minchiate. Allora, Bellofigo, ascoltami. Allora, Pussi Luma. Allora, ok. Ora sono tranquillo. Spiegami come mai voglio rubarmi anche il miglior tren dal mondo. Spiegamelo. Io non sono tranquillo. Mi hai rubato la canzone Leggings di pelle. Mi hai rubato la canzone Leggings di pelle. Io non sono tranquillo. Tu sei tranquillo e io no. Bellofigo. Mettiamoli cosa in chiaro. Allora, Pussi Luma. Ti diamo l'ultima occasione per spiegarti e chiedere scusa. Spiegami perché hai voluto rovinare anche il mio trend. Perché era solo per le fighe. Bellofigo. Quello non è il tuo trend. Quello all'inizio era il mio trend. Io ti ho venduto la canzone a 5 milioni e tu dovevi ancora pagarmela. Ma questo non è un problema. Questo non è un problema. Stai tranquillo. Allora, poi volevo chiederti una cosa. Io su TikTok vedo dei video in cui io ti faccio le domande e tu le fai. Oggi ho fatto un TikTok. Oggi ho fatto un TikTok in cui canto la canzone Leggings di pelle. Oggi ho fatto un TikTok. Allora, Pussi Luma. Mi stai dicendo che ti sei permesso a cantare anche Leggings di pelle nel tuo TikTok. Sì. Quello l'ho cantata. Sì. Quello l'ho cantata perché è Leggings di pelle. Allora, ascoltami. Ascoltami. Cancella subito quel video. In più ho visto anche del video in cui rispondi alle domande. Sei una pussy. Pussi. Sei una pussy. Le uniche domande che tu devi rispondere sono le mie. Dopo ti hai chiesto scusa e tolto quel video lì. Pussi Luma. Pussi Luma. Bello figo. Allora. Ancora mi devi spiegare perché hai ordinato il mio trend. Leggings di pelle. Cancellare tutti i video che hai messo su TikTok. Sei tu che li devi cancellare tutti. Perché tu non hai nessun diritto di mettere tutti quei video con le canzoni perché tu non hai nessun diritto. La canzone Leggings di pelle c'è scritto proprio il mio nome sopra. E tu l'hai presa e l'hai pubblicata. Non capisco per quale motivo. Non capisco per quale motivo, Bello figo. Non capisco per quale motivo. Allora facciamo così. Passiamo subito ai fatti. Facciamo così. Passiamo subito alle domande. Se tu le rispondi giuste, se tu le rispondi giuste… Io rispondo sempre giusto. Io ho studiato la matematica e la geografia. Io rispondo sempre giusto. Allora, lo dico anche ai ragazzi qua in live. Passiamo subito ai fatti. Vediamo se è rimasta ancora una puss dopo un anno. Bello figo. Passiamo subito ai fatti, non alle parole. Se tu le rispondi giuste, ti lascio il tuo TikTok di merda dove canti Leggings di pelle. Bello figo. Se tu invece sbagli, togli quel video… Bello figo. Perché ci sono le mie vizzettine e i miei bro che mi stanno seguendo anche su OnlyFans. Perché io adesso ho fatto OnlyFans e mi vedono là… Possiamo? Ti sei permesso anche di iscriverti ad OnlyFans? Io l'ho fatto OnlyFans perché è bello OnlyFans. Come ti sei permesso? OnlyFans? Mi volevano solo i fans. Come ti sei permesso? Ti avevo detto muuui! Volevano essere viziato solo i fans. Mi voglio OnlyFans muuui! Bello figo. Io ho fatto OnlyFans per le mie vizzettine. Non per te. Io ho fatto OnlyFans per le mie vizzettine. Non per me. Allora, io non sono gay. A parte che non me lo dovresti neanche dire perché io non sono gay. Non vengo lì a vederti e ti spogli nudo. Non sono gay, Puzzo Lima. Non sono gay. Allora, se tu rispondi giusto, se tu rispondi giusto, ti lascio il TikTok ma cancelli OnlyFans. Se sbagli invece cancelli tutti e due. Sei pronto? Risalto la matematica. Bello figo. Facciamo così. Se tu sbagli, cancelli la canzone di Leggings di pelle. Se io sbaglio… Allora, Puzzo Lima, non ti devi permettere muui a toccare Leggings di pelle. Miglior album. Anzi, miglior trend. Era dall'album spagnolo scoglio che ti dicevo. Miglior trend al mondo. Puzzi! Allora, come al solito… Allora, come al solito si dimostra ancora una Puzzi senza internet. Allora, Puzzo Lima, non scappare perché so che sei lì. Non scappare perché so che sei lì. Stai scappando perché probabilmente non rispondi giusto e dovrai cancellare il video. Allora, dite a Puzzi Lima di tornare perché non so che panno. Dite a quella Puzzi di tornare. Non so che panno. Allora, voi lo vedete che si è fermato? Voi lo vedete che si è fermato senza internet? Quando vi dicevo che ero una Puzzi non mi credevate. Lo vedete ora? Dal vivo scappa, è chiaro. Spero che metto la canzone anche a quella Puzzi lì che si è permesso di toccare Leggings di pelle. Il miglior trend al mondo di sempre, è chiaro. Ma hai cappato, è chiaro. Allora, dite a quella Puzzi di tornare perché non sta cappando. Probabilmente sta scappando perché non voglio togliere la canzone. Spero che la metto. Allora, Puzzi Lima. È uscito. No, 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 è scappato come al solito, mi dicevo. È scappato come al solito. Allora. Allora. Sia in inverno in metà, in giro in discoteca, mettono tutte sempre. Allora, dite a quella Puzzi di tornare perché sennò dovrà cancellare tutte le due cose. Vieni. 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 lei twerca, non ti credo, è una… ok amico, dammi un attimo, guarda com'è bene. Allora, comunque… Allora, Pustinuma, allora, ascolta una cosa, Pustinuma. Leggings di pelle è solo mia, tu la devi cancellare, leggings di pelle. Leggings di pelle è solo mia. Quindi adesso noi iniziamo con la matematica e se sbagli la cancelli da YouTube. Allora, Pustinuma, fai una cosa. Allora, io lo dico anche per te. Io ancora qua non ti vedo. Io ti sto ascoltando, sì. Allora, io qua non ti vedo. Non fare la pussi. Fatti vedere, non fare la pussi. Io ci sono. Io mi vedo. Io ci sono. Allora, facciamo così. Allora, chiude la live e riavvio. Così partiamo con le domande, perché io qua non ti vedo. Stai facendo la pussi. Allora, facciamo per la matematica, sì.